Della tecnologia di bordo della nuova Volkswagen Golf 8 ve ne abbiamo già parlato in questo video qui in alto nelle schede tra l'altro questa è la Golf 8 variant protagonista del nostro ultimo test drive è arrivato il momento però di un brevissimo tutorial per scoprire come collegare il proprio smartphone via bluetooth a questa vettura quindi non esitiamo ancora scopriamolo insieme perché veramente semplice la procedura è veramente semplice ci troviamo nella home andiamo per esempio a telefono setup qui ci dice già che mai volkswagen 6691 visibile disponibile andiamo su setup cerchiamo dei dispositivi disponibili nel frattempo io per darvi un po di contesto userò il mio iphone 8 quindi andrò ad attivare a rendere visibile il bluetooth sul mio telefono e quindi a breve ecco infatti ha già trovato we drive carlo clicchiamo lo abbiniamo sul telefono consentiamo i preferiti va bene e ora siamo effettivamente sul mio telefono we drive carlo ma se volessimo per esempio collegarci tramite apple car play sarà già disponibile clicchiamo apple car play usa car play sul telefono usa apple car play anche qui ovviamente come vedete sono tutte procedure che sto facendo a macchina ferma quindi per evitare di distrarmi alla guida ed ecco apple car play veramente una procedura facilissima meno di due minuti questa era la procedura di questo brevissimo tutorial che se vi è piaciuto vi è tornato utile vi ricordo potreste ringraziarci magari commentando comunque lasciandoci un like perché per voi gratis per noi è molto importante ugualmente importante anche che voi vi iscriviate al nostro canale clicchiate sul campanello per ricevere tutte le notifiche dal mondo dei motori qui su we drive a quattro ma anche a due ruote inoltre potete restare aggiornati con tutti i nostri prossimi contenuti digitando online su google per esempio su ogni piattaforma social che vi possa venire in mente we drive.tv grazie a tutti